Si mette qua il suo timer, porca miseria. Cioè, ti sembra normale. Che giù metter il timer, vabbè. No, il barista. Che ha fatto il barista? Mi ha detto, signora, cosa desidera? E che te dovevi? Signora. Beh, signora, ho 27 anni, a me, io, che sto ancora nel clou della gioventù. Io sono ancora una ragazzina. Una ragazzina, ma perché muto sto mannato? Beh, ma che c'entra? Dove senti dolore? Eh, allora, partiamo dalla testa, no? Che boda, però. Tutto il lato destro. Quindi, voglio dire, cioè, sinistra non è che sento dolore. Il lato destro, praticamente, tutto. Che tutto? Cioè, praticamente, parte dalla testa, scende al collo, pure all'orecchio dietro. Poi, ah, c'è un punto qua dietro che se me lo tocco, è proprio quello. Si addormentano pure le mani. Sì, molte volte. Hai dolore ovunque. O comunque, poi anche se ti scendo. Tutta la gamba. Da sdraiata? Da sdraiata pure. E poi, per esempio, quando faccio, tipo... Ma perché qua non lo fai? Mi capo male. E poi, a volte, tipo, faccio pure fatica ad alzarmi dal divano. Cioè, non lo so. Scusate la domanda, ma non la posso cambiare? C'è una garanzia? Dai, Giù, questo è il karma, dai. I dolori, però, non sono perché stai invecchiando. No, assolutamente. No, infatti ero indeciso se portarla qua o dalla pediatra.